Ma com'è lavorare nella cucina di Sonia Peronaci? In occasione del secondo workshop, io e le altre foodies abbiamo avuto l'onore e la fortuna di cucinare sul set della Cucina di Sonia, dove vengono girati tutti i programmi televisivi. È stata un'esperienza pazzesca, un'emozione dietro l'altra. La cucina non è solo quel posto in cui si mettono le mani in pasta e si preparano piatti deliziosi, ma avviene una magia più grande. È sinonimo di lavoro di squadra, dedizione, condivisione, allegria, momenti divertenti. Si sa, quando c'è sintonia le ore volano. Dopo tanto lavoro, ovviamente, non potevano mancare gli essaggi. È uno dei momenti di condivisione che preferisco, perché vedo nascere la curiosità sul volto di chi essaggia, si trasforma in stupore, non mancano i sorrisi e il cuore si riempi di gioia. Sono davvero grata della splendida giornata che abbiamo trascorso tutti insieme.